Un cordiale saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Dammo un rapido sguardo agli ultimi aggiornamenti per il meteo sul ponte di Onissanti, cercando di capire chi godrà ancora di un po' di sole e chi invece purtroppo dovrà riaprire gli ombrelli. Partiamo dalla situazione attuale che vede questa depressione blanda ma insidiosa sul Mediterraneo occidentale che anche nella giornata di Onissanti determinerà qualche rovescio temporale sulle isole maggiori. Isolatamente non escluso anche sul medio-basso versante tirrenico. Altrove regime di variabilità ma a tempo per lo più asciutto. Attenzione però a questa perturbazione atlantica che nel corso del weekend farà passi verso Levante e nella giornata di domenica sarà responsabile di un nuovo peggioramento, soprattutto al nord sui versanti tirrenici con piogge e temporali. Entriamo proprio nel dettaglio delle precipitazioni previste partendo dalla giornata di sabato che vedrete vedrà un po' di nuvolosità più compatta sulle regioni settentrionali e lungo le tirreniche dove potremo avere ancora qualche debole pioggia a rovescio sparso. Non escluso qualche rovescio anche sulle isole maggiori. Ma sarà domenica che il maltempo entrerà nel vivo con questa perturbazione che come vedete alle mie spalle determinerà precipitazioni anche intense soprattutto su nord Italia, in particolare su Alpi, Prealpi e Alte Pianure, ma anche su Liguria e Toscana e qualche rovescio temporale sparso potrà interessare anche i versanti tirrenici. Notate invece come il tempo sarà più asciutto sulle Adriatiche e le estreme regioni meridionali sebbene con isolati, fugaci fenomeni non esclusi. Infine una rapida occhiata all'inizio della prossima settimana che vedrà l'autunno fare un po' più sul serio con questa fronte freddo in discesa sull'Europa centrale e la Francia che darà probabilmente vita ad una nuova circolazione ciclonica responsabile di ulteriori piogge temporali sull'Italia ancora una volta più probabili sui settori occidentali della penisola. Bene, per adesso mi fermo qui per tutti gli aggiornamenti